Una nottata movimentata per i cittadini dell'Aquila e dintorni, due scosse avvertite distintamente fanno tornare la paura. Ad essere ancora una volta coinvolta la zona di Campotosto, comune già duramente colpito dagli eventi sismici dello scorso gennaio. La prima scossa si è verificata ieri sera alle 20.45, la magnitudo registrata dai sismografi è stata di 3.3. L'altra ancora più forte ha dato il buongiorno stamane alle 6.45 ed è stata di magnitudo 3.9. In mezzo a queste tante repliche minori, alcune avvertite, altre no. Scosse avvertite distintamente all'Aquila, dicevamo, ma anche nella Marsica e nel Terramano. Scosse avvenute ad una profondità maggiore rispetto a quelle che di solito interessano la catena penninica. Il terremoto è stato avvertito bene in tutti i centri dell'Alta Valle dell'Aterno, in particolare a Montereale e Capitignano, dove domani sarà in visita al Premier Paolo Gentiloni per l'inaugurazione di una scuola. Tanta paura ma niente danni, in questi centri tante persone si sono riversate in strada.